Luca Antei, c'è tanto bisogno di giocatori di esperienza nella difesa del Pescara, la più battuta del campionato, l'esordio con la prima squadra? Al momento sto lavorando bene, siamo nei tempi che c'eravamo prefissi e ancora ci vorrò un po' prima del mio rientro in campo, ma per il momento è stato tutto bene per fortuna. Hai eseguito queste partite, le prime dei tuoi compagni dalla tribuna, che impressione hai avuto di questo Pescara? Adesso è un momento difficile comunque, non è facile riuscire a rialzarsi, ma giorno dopo giorno lavoriamo sempre al 100%, lavoriamo sempre bene come squadra e basta un piccolo risultato utile e tutto che le cose si sistemano. Proprio un tuo compagno di reparto, oltre che di squadra Scognamiglio, qualche giorno fa ha detto che in settimana facciamo tutto bene, facciamo quello che ci dice il mister, poi in campo il sabato o la domenica. Non riusciamo a mettere invece in pratica i dettami tecnici dell'allenatore. Secondo te perché questo? Adesso subentrano anche molte cose sotto il punto di vista mentale. Molto spesso quando sei in campo una cosa va storta e tutto, rischi di affossarti, ma ultimamente vedo il morale che piano piano sta crescendo e speriamo già dalla prossima partita di fare bene. Loredì, Monday Night a Lecce, forse una delle partite più complesse. Sì, il calendario sicuramente non ci ha agevolato sotto questo punto di vista, anche se in Serie B sappiamo che sono tutte toste come partite. Andare a Lecce così sarà una partita dura, ma cercheremo di andare, di fare le cose nel modo giusto e cercare di portare a casa più punti possibili. Lecce, Cittadella, Spal, calendario che non dà trego al Pescara. Partite complicate sulla carta? Sì, complicate, ma la Serie B ci ha insegnato negli anni che anche l'ultima in classifica può vincere con la prima e viceversa. Quindi a differenza dell'avversario che capita siamo sempre noi ad andare in campo. Come si esce da questo momento difficile? Ducantè, giocatore esperto, viene da diverse stagioni in formazioni importanti. Come si può uscire da questo momento? Non c'è una soluzione vera e propria per uscire da questi momenti. Il momento che esci arriverà basta una partita azzeccata, una partita fatta bene, che la squadra riaquista fiducia e le cose andranno sempre meglio.